Nella sua cella esanime, finito in overdose dopo aver assunto un mix di farmaci e sostanze stupefacenti. Si tratta di un tunisino 33 anni in carcere per la violazione del divieto di dimori in Emilia-Romagna. È successo nella mattinata di venerdì all'interno del penitenziario riminese dei Casetti. A scoprirlo sono state le guardie carcerarie durante il normale controllo. Dalle prime informazioni lo straniero non si era alzato dalla sua brande e allo stesso tempo non dava segni di vita come se fosse morto. È dunque scattato l'allarme che ha fatto giungere in breve tempo nella casa circonderale dei Casetti. Il personale del 118 con ambulanze automedicalizzata, mentre i sanitari del penitenziario riminese gli hanno prestato i primi soccorsi. Sono stati attimi di grande tensione. Una volta stabilizzato per il 33enne tunisino è scattata la corsa al pronto soccorso dell'ospedale infermi dove il nordafricano tuttora si trova ricoverato in coma nel reparto di rianimazione. I sanitari stanno facendo di tutto per strappare l'uomo alla morte. All'arrivo dei soccorritori era già privo di sensi. A causare il malore, con ogni probabilità, sarebbe stata l'assunzione di un mix di farmaci e sostanze stupefacenti. Ma al momento sono ancora in corso le analisi tossicologiche per accertare con esattezza il tipo di droga assunta. Una situazione grave, peraltro, non nuova per lo straniero, che già nei giorni scorsi, secondo quanto emerso, aveva accusato un altro malore. E in quell'occasione le analisi avevano trovato il 33enne tunisino positivo a metadone, psicofarmaci e cannabinoidi.